dopo aver finalmente terminato la serie di video dedicata agli array in questo video andiamo avanti e andiamo avanti introducendo un'altra struttura fondamentale del linguaggio ovvero le funzioni buona visione innanzitutto guardiamo insieme il meccanismo che si c'era dietro l'utilizzo delle funzioni per correttezza è necessario chiarire che le funzioni nel perl prendono il nome di subroutine e subroutine quindi ci permettono di utilizzare più volte un pezzo di codice all'interno del nostro programma quando si desidera definire una subroutine si utilizza la keyword sub dopodiché si assegna il nome della funzione che tecnicamente prende il nome di etichetta o label che dir si voglia e successivamente si aprono le parentesi graffe che delimitano l'inizio e la fine del corpo della subroutine e all'interno delle parentesi graffe quindi all'interno del corpo della subroutine si inseriscono le istruzioni che vogliamo assegnare alla funzione dopodiché quando vogliamo utilizzare il set di istruzioni contenuto in una determinata subroutine ci basta richiamare all'interno del nostro programma il nome della funzione l'interprete a quel punto va a verificare se la funzione che stiamo cercando di utilizzare esiste effettivamente e una volta trovata interrompe il regolare flusso del programma ed esegue il set di istruzioni contenuto all'interno della subroutine richiesta una volta terminata l'esecuzione della subroutine il programma riprende la sua normale esecuzione da dove si era interrotto nel piccolo esempio che vi ho preparato ho trascritto pari pari ciò che vi ho fatto vedere all'interno del documento ovvero ho creato la subroutine mia funzione tramite la keyword sub e al suo interno ho inserito la funzione print che stampa in output ciao a tutti ora questa è anche un'occasione per fare chiarezza tra funzioni built in e funzioni user defined una funzione built in è print ovvero una funzione che è già presente all'interno del linguaggio e non è inserita dall'utente mentre una funzione user defined è ad esempio la subroutine mia funzione ovvero una subroutine che viene creata dall'utente e non fa parte del core del linguaggio quindi detto ciò questa subroutine mia funzione che stampa in output ciao a tutti e viene richiamata semplicemente richiamando per l'appunto il nome della subroutine durante l'esecuzione del codice quindi che cosa succede viene definita la funzione e una volta che viene richiamata l'interprete va a cercare tra la sua lista di funzioni trova la funzione mia funzione recupera ciò che si trova al suo interno e lo esegue guardiamo lo script in esecuzione come vedete stampa con successo ciao a tutti sono fermamente convinto di riuscire a far letteralmente non ridire chi proviene da altri linguaggi di programmazione più rigorosi con sole 13 righe d'esempio guardiamo che cosa ho combinato ho definito la subroutine saluta che stampa semplicemente in output la stringa ciao concatenata alla variabile nome dopodiché fuori dalla subroutine ho dichiarato la nostra variabile nome alla quale ha segnato la stringa gianni ed infine ho richiamato la subroutine saluta guardiamo che cosa succede tutto a posto stampa ciao gianni questo per molti è un orrore è un qualcosa di inguardabile e ciò accade perché il perl di default tratta tutte le variabili come variabili globali ma guardiamo un piccolo schema per capire meglio che cosa sta succedendo ed eccovi come promesso un piccolo schema su come un linguaggio di programmazione severo tra virgolette avrebbe valutato la situazione vista nello script precedente ci avrebbe restituito in output un bel errore che ci fa notare che non esiste alcuna variabile nome all'interno della funzione saluta questo accade poiché se una variabile viene dichiarata all'esterno di una funzione essa valore solamente all'esterno della funzione e non risulta invece dichiarata all'interno di quest'ultima questo meccanismo viene chiamato scope delle variabili ovvero il campo di visibilità che viene attribuito ad una variabile all'interno del codice questo meccanismo è particolarmente utile in quanto ci permette di dichiarare più variabili con lo stesso nome senza avere spiacevoli imprevisti in quanto è possibile dichiarare sia una variabile nome locale all'interno della funzione salute ad assegnarli la stringa carlo e dichiarare un'altra variabile nome all'esterno della funzione salute ad assegnarli la stringa gianni e tutto ciò risulterebbe perfettamente valido in quanto richiamando la funzione saluta verrà stampato ciao carlo in quanto la variabile nome che vede la funzione saluta è quella alla quale abbiamo assegnato la stringa carlo ma come detto in precedenza il perl tratta di default tutte le variabili come se fossero variabili globali essendo per l'appunto globali questo tipo di variabili sono visibili in ogni parte del codice e quindi di conseguenza anche all'interno delle funzioni inoltre sono universalmente riconosciute come cattiva pratica o per dirla l'americana bad practice durante la scrittura di un programma in quanto sono portatrici sane di bug e problemi ma fortunatamente il perl ci rende possibile correggere questo scempio tramite l'utilizzo delle variabili lecicali o lexical variables corriamo subito a vederle ho ripreso in mano lo script precedente e ho apportato una piccola modifica ma che ha portato grandi cambiamenti ho semplicemente utilizzato questa keyword qua ovvero la keyword my prima della dichiarazione della variabile nome avendo utilizzato la keyword my prima della dichiarazione della variabile ho reso la variabile nome una variabile lessicale una variabile lessicale è l'equivalente di una variabile locale quindi essendo una variabile lessicale ha valore solamente all'esterno della subroutine quindi quando la subroutine saluta cercherà di stampare in output ciao concatenato con la variabile nome la variabile nome non verrà trovata in quanto non si trova all'interno della subroutine guardiamo lo script in esecuzione come vedete non abbiamo non uno ma ben due warnings che il primo ci dice che il la variabile nome è usata solo una volta ed è un possibile errore in linea 7 in linea 7 si trova la nostra feature 6 che cerca di stampare in output la variabile nome il secondo warning ci avverte che stiamo utilizzando una variabile non inizializzata in concatenazione ad una stringa sempre in linea 7 questi due warning sono molto molto chiari la prima volta ci avverte che la variabile nome la stiamo utilizzando solamente una volta e che quindi potrebbe essere un errore il secondo warning invece ci sta proprio dicendo che la variabile nome non è inizializzata e quindi il meglio che può stampare in output la subroutine saluta è un ciao con un punto esclamativo ho modificato leggermente lo script precedente per farvi vedere i benefici nell'utilizzo delle variabili lessicali ho creato all'interno della subroutine saluta una variabile lessicale chiamata nome alla quale ho assegnato la stringa carlo all'esterno della subroutine ho creato un'altra variabile lessicale nome alla quale però ho assegnato la stringa cianni dopodiché all'interno della subroutine stampo in output attraverso la feature 6 il contenuto della variabile nome e poi ripeto la solita cosa solamente che all'esterno della subroutine guardiamo lo script in esecuzione come vedete la variabile nome esterna alla subroutine contiene cianni mentre la variabile nome interna alla subroutine contiene carlo questo poiché come abbiamo detto la variabile lessicale contenuta all'interno della subroutine saluta ha valore solamente all'interno della subroutine mentre la variabile lessicale creata all'esterno della subroutine ha valore solamente all'esterno della subroutine. Ciò comporta che quando andiamo a stampare in output il contenuto della variabile nome all'interno della subroutine saluta viene calcolata solamente la variabile lessicale nome alla quale abbiamo assegnato Carlo e all'esterno solamente quella alla quale abbiamo assegnato Gianni. Senza l'utilizzo delle variabili lessicali ciò non sarebbe stato assolutamente possibile in quanto saremo andati per forza di cose a sovrascrivere il contenuto della variabile nome. Ma la keyword mai non è limitata all'utilizzo all'interno delle subroutine bensì si può utilizzare anche in altre occasioni. Nell'esempio ho creato l'array personaggi al quale assegnato i valori Goku, Vegeta, Krillin e Mr. Satan dopodiché un ciclo for che stampa ad ogni iterazione ciò che si trova in indice i dell'array personaggi e infine si stampa in output il valore della variabile i una volta terminato il ciclo for. Come abbiamo detto qualche video fa il perl mantiene vive le variabili create all'interno della testa di un ciclo for anche una volta terminato il ciclo for e infine il valore di una volta terminato il ciclo for è 4. Ora per eliminare automaticamente la variabile i una volta terminato il ciclo for si può utilizzare la keyword mai che restringe la visibilità della variabile i all'esecuzione del ciclo for questo vuol dire che una volta terminato il ciclo for la variabile i è come se non fosse mai esistita. Guardiamo lo script in esecuzione come vedete già all'inizio abbiamo un warning ovvero che la variabile i è utilizzata solo una volta poi stampa correttamente Goku, Vegeta, Krillin e Mr. Satan ma una volta terminato il ciclo for di nuovo un altro warning che ci dice che stiamo utilizzando una variabile non inizializzata ovvero la variabile i in concatenazione ad una stringa. Infatti valore di variabile i e poi il nulla in quanto la variabile i è come se non fosse mai esistita. Avrei dovuto concludere la lezione spiegando il pragma strict però guardando la durata complessiva del video mi rendo conto di essere andato un pelino troppo per le lunghe quindi preferisco rimandare tutto al prossimo video. Per qualsiasi domanda qualsiasi chiarimento o dubbio vi invito a lasciare un commento e niente anche per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima